Siamo riusciti a fare il possibile perché sapevamo che era una trattativa difficilissima ma allo spettro di una eventuale messa in liquidazione ha portato il sindacato come sempre è stato a una grande capacità di voler comunque arrivare a una trattativa durissima ma concluderla con aspetti positivi. Ci sono dei punti che possono essere sfruttati favorevolmente da parte della politica soprattutto per quanto riguarda le filiali da dismettere? Sì, nel progetto iniziale non c'era, siamo riusciti a spuntare il fatto che le filiali che sono 39 in Abruzzo che chiuderanno su 94 filiali, scesi adesso a 91, la possibilità di vendita di questi sportelli agli istituti di credito che si facessero avanti. A questo punto chiediamo con gran forza che tutti gli attori presenti nella nostra regione in prevalenza alla politica che a mio avviso è stata abbastanza assente rispetto a questa tematica importantissima, si debbano attivare il più possibile affinché arrivino compratori in grado di poter mantenere quello che è secondo noi un punto essenziale per lo sviluppo nel nostro territorio. Non ci saranno al momento ricadute negative, nel senso che saranno comunque, le colleghe e colleghi sceglieranno volontariamente di entrare nei vari percorsi che sono specificati nel progetto che sono coloro che si avvicinano alla pensione sostanzialmente per essere più brevi possibile. Sappiamo perfettamente che non possiamo brindare un accordo così duro per l'Abruzzo perché ricordiamo che la Popolare di Bari ha rilevato la Extercas e l'Excaripe, due banche principali importantissime per il nostro territorio e questo ancora di più ci configura in una situazione di grande difficoltà per lo proprio sviluppo. Questa banca la Popolare di Bari è in commissariamento, continuerete a seguire chiaramente le sue vicende ma qual è il destino a breve di questa banca? Allora proprio nelle premesse abbiamo inserito intanto che questa banca debba avere una prospettiva cioè noi questo sforzo lo facciamo, convinceremo i nostri colleghi, i nostri lavoratori a poter accettare questo piano che è comunque un piano difficilissimo perché abbiamo bisogno di un rilancio di questa banca, c'è l'intervento di Mediocredito Centrale che interverrà e prenderà a breve le sorti di questa banca, noi vogliamo che questa banca non si limiti soltanto a un piccolo progetto ma un progetto di una grande banca per tutto il meridione perché pensiamo che ce ne abbiamo bisogno e in questo tutti gli attori, compresi chiaramente i sindacati, devono fare la loro parte. A questo punto chiaramente occorrono risorse per rilanciare questa banca.